E' una follia autorizzare nuove opere che promuovono l'uso del metano corresponsabile dei cambiamenti climatici e questa è la convinzione alla base della lotta che stanno portando avanti le associazioni che fanno parte del coordinamento NOAB del gas che stanno lottando contro il nuovo gasdotto Larino Chieti. Lo scorso 2 di novembre l'associazione Nuovo Senso Civico, aderente al coordinamento, ha depositato e notificato un ricorso al Presidente della Repubblica contro l'autorizzazione del Mise del 25 giugno 2018 per la costruzione del nuovo gasdotto fra Abruzzo e Molise. Un'opera contestatistima che dovrebbe essere lunga 111 chilometri e attraversare le colline d'Abruzzo e Molise soppiantando tra l'altro vigneti e oliveti di Gampregio e interessando ben otto siti di interesse comunitario. Si tratta di uno dei provvedimenti del Mise varato sotto il nuovo governo Lega 5 Stelle che viene impugnato per un'opera rilevante dal punto di vista delle conseguenze ambientali secondo le associazioni ambientaliste. In particolare nel ricorso si contesta la violazione della rirettiva 42-2001 della Comunità Europea sulla valutazione ambientale strategica e della direttiva 43-92 sempre della Comunità Europea denominata Habitat sulla valutazione di incidenza ambientale per non aver sottoposto a queste due procedure due atti fondamentali e propedeutici alla pianificazione dell'opera. Altri aspetti del ricorso riguardano la mancata contradduzione alle osservazioni puntuali delle associazioni in sede di valutazione di impatto ambientale da parte del Comitato Via regionale. Riteniamo inoltre particolarmente grave questo provvedimento perché è il primo provvedimento autorizzativo di questo governo che aveva preso degli impegni concreti rispetto appunto alle fonti fossili e riteniamo allo stesso tempo grave anche il fatto che quest'estate il Ministro Costa aveva preso degli impegni rispetto alla verifica di questo progetto in particolare e alla mancanza appunto della VAS ed invece a distanza ormai di diversi mesi tutto tace e siamo stati costretti appunto a presentare un ricorso al Presidente della Repubblica.